Fiera del libro, il banco del tuo editore, il tuo romanzo appena stampato lì accanto a te e di fronte una folla di sconosciuti a cui tu devi proporre il tuo libro. Panico. Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Mi avete chiesto in tanti, nelle ultime settimane, qualche dritta utile su come affrontare un momento decisivo del proprio percorso di scrittura che è quello dell'esordio letterario. Quali sono quindi i problemi che si presentano all'aspirante romanziere nel momento in cui affronta l'esordio letterario e come si può cercare di fronteggiarli, come li si può risolvere e come si può trasformare un impasse in un'occasione anche di avventura, di divertimento e di scoperta. Parliamo oggi di vendita diretta in fiera. Fiera che può essere qualunque cosa, qualunque circostanza. Tutte quelle circostanze in cui voi vi troviate come autori della vostra opera narrativa, presenti appunto di fronte a una collettività di persone che non vi conoscono in precedenza, quindi è una situazione ben diversa rispetto a una presentazione libraria. Questa già è una differenza consistente, molti fanno confusione fra le due situazioni, mentre invece non hanno assolutamente nulla in comune, o quasi, proprio dal punto di vista del tipo di pubblico che voi vi trovate ad avere e dal tipo di strategie comunicative che dovete impiegare. Sì perché da un lato le presentazioni, 99 volte su 100, raggruppano persone che già vi conoscono, quindi sono eventi fatti per cementare una base di pubblico già presente. Al contrario invece le occasioni di vendita diretta in fiera sono volte a attrarre nella vostra orbita delle persone che ancora non vi conoscevano. Quindi si tratta di un pubblico freddo, come si dice in gergo, che voi dovete riuscire a incuriosire, dovete solleticarli, dovete fargli nascere l'attenzione, la voglia e il desiderio di prendere in mano il vostro libro, di leggere la quarta di copertina magari, oppure di farsi raccontare da voi quello che il libro contiene, fino al punto in cui soddisfatti o convinti o incuriositi decidono di acquistarlo. Questa circostanza è chiaramente ben diversa da quella della presentazione per una serie di buoni motivi. Sicuramente può causare un certo timore. Mi è capitato spessissimo di vedere in fiere del libro, in occasioni culturali, in rassegne, in mercatini anche del libro, così come pure in firmacopie in librerie, quindi non presentazioni ma firmacopie. Mi è capitato spesso di vedere autori alle prime armi estremamente rigidi, estremamente intimiditi dalla situazione e che appunto molto spesso in queste circostanze venivano sconfitti, sopraffatti dal timore, dalla circostanza, dalla paura di non fare una buona impressione, dalla non sapere come affrontare il discorso, come parlare del proprio libro alle persone che passano davanti, persino interrogarsi su se sia giusto o meno proporsi rispetto a aspettare di vedere che qualcuno si avvicini spontaneamente. Tutte queste qui e tantissime altre sono questioni, sono problemi che affliggono l'esordiente, lo scrittore alle prime armi, quando si confronta con un pubblico freddo. Pubblico freddo che ha naturalmente una serie di esigenze che sono ben diverse da quelle che troverete altrove, che sono ben diverse sia dal pubblico della presentazione, come dicevamo, ma sono anche diverse rispetto a un pubblico, magari che non è venuto di persona a una presentazione, manifestando quindi già una forte coinvolgimento, ma anche soltanto persone che incontrate per caso e che vengono a sapere così nella conversazione insieme a voi che avete scritto un libro, che è già una situazione diversa rispetto a dover fermare delle persone o comunque persone sconosciute che vi capitino davanti alle quali bisogna riuscire a proporre, a presentare in modo efficace il proprio libro per comunicarlo. Questa situazione, questa difficoltà, questo timore, questo blocco che ferma molti scrittori alle prime armi impedendo loro di trovarsi bene in una circostanza del genere è causa anche del rifiuto di moltissimi di comparire in suddette circostanze. Ho conosciuto tantissimi scrittori che proprio con fermezza, anzi quasi vantandosene, si dicono no, io non partecipo a fiere in cui sia io a dover fermare il pubblico, perché mai dovrei farlo? Se lo vorranno lo compreranno, se lo vorranno lo leggeranno e non sarò certo io a fermarli come un venditore porta a porta. Intanto ci sono tutta una serie di cose opinabili su cui si potrebbe e dovrebbe obiettare in un'affermazione di questo tipo, ma va bene, quando anche la si volesse accettare diciamo come proposizione generale, va benissimo, nessuno è obbligato mai, quasi mai, a sviluppare questo percorso in modo diciamo metodico. Nessuno di voi, se diventerete, se riuscirete a coronare almeno l'ambizione di pubblicare, che è facilissimo, è facilissimo pubblicare, non credo che vi capiterà mai di essere nella situazione in cui verrete a forza costretti a presenziare a un banco di libri della casa editrice, è la situazione più comune in cui questo accade. però tenete presente che questa è una situazione in cui molto probabilmente prima o poi vi capiterà di trovarvi e certo potete benissimo rifiutarvi di farlo. Io non vi consiglio di rifiutarvi però per una serie di buone ragioni. Vediamone qualcuna così in modo scisso e in modo discorsivo. intanto partecipare a una fiera di questo tipo vi può permettere di acquisire maggiore sicurezza in voi stessi e questo diciamo è già una buona cosa. Male mai non fa. Gli scrittori tendono ad essere spesso molto timidi, molto chiusi e con una certa incapacità di relazionare la propria interiorità con l'interlocutore costituito dal lettore. Questo è uno dei motivi per cui già si commettono tutti quegli errori di cui già abbiamo parlato tante volte negli altri video. Errori causati dal fatto che chi scrive non si concentra minimamente su chi ascolterà ma si concentra solo su quello che vuole esprimere dall'esterno. Che è soltanto metà del lavoro ma anche la metà più importante. Stessa cosa accade nella fiera. Quindi il superare in modo positivo questo timore, questa resistenza, questa fatica iniziale a esporsi è qualcosa che sicuramente porterà dei benefici sotto una serie di profili tra cui quello psicologico, tra cui quello della tranquillità e della sicurezza di voi stessi. Ed è la prima di tante ragioni. Una seconda ragione potrebbe sicuramente essere la soddisfazione. Ogni volta che qualche lettore compra un vostro libro, se questo avviene in libreria quando voi non siete presenti, l'unica cosa che scoprirete, l'unica cosa che vi arriverà sarà un euro in più sulla percentuale di royalties che vi arriverà nell'anno successivo, un piccolo numero. A meno che non sia un caso eccezionale in cui quel lettore dopo avervi letto vi scriverà anche, ma succede molto molto di rado. Invece in fiera ogni libro acquistato è una persona vera, è una persona che voi avete visto, è una persona con la quale avrete parlato e che a un certo punto deciderà di comprare. Ovviamente non tutte le persone a cui parlerete compreranno il libro, saranno una piccola percentuale, dipenderà dal vostro libro, dipenderà dalla circostanza in cui vi trovate, dipenderà dalla predisposizione del lettore e anche molto dalla vostra abilità, che naturalmente migliorerà con l'esperienza come tutto quanto. Ma quando riuscirete a superare tutti questi ostacoli, queste difficoltà e riuscirete a vendere una copia del vostro libro a un lettore, vi accorgerete che quello che è appena accaduto ha un valore ben diverso rispetto a una copia venduta in libreria, per voi. Proprio a livello di soddisfazione, di gratificazione personale. Ci sono una serie di cose collegate a questo che sarebbe troppo lungo trattare, andiamo pure avanti. Numero tre, sempre in relazione con l'interazione con il pubblico, andando in fiera e parlando direttamente con i lettori, vi accorgerete di sviluppare, questo magari non soltanto la prima volta ma se andrete magari due volte, tre volte, quattro volte in fiera, vi accorgerete che dalle domande del pubblico e dalle risposte che voi darete, dai dialoghi che scaturiranno da queste circostanze, voi imparerete a capire meglio i lettori, entrerete in risonanza con loro, vi renderete conto che poco per volta cambierà la vostra idea di lettore della vostra storia, il lettore implicito cambierà, perché fin tanto che scrivevate nella vostra camera, nel vostro studio, quel lettore era un'entità astratta, invece con il tempo quel lettore andrà tarandosi sempre di più sul profilo delle persone che comprano il vostro libro. Persone vere, persone fisiche, questo potrebbe avere un effetto inaspettato, almeno per voi che ancora non lo avete fatto, sul vostro modo di scrivere. Imparerete l'importanza di focalizzare l'attenzione, di restringere e anche proprio relativamente al comunicare meglio quello che voi state scrivendo. Perciò partecipare a qualche fiera e comunicare, fare esperienza di comunicazione della vostra storia a un pubblico freddo potrebbe insegnarvi molte cose sulla storia che avete scritto e sul tipo di lettori che più probabilmente entreranno in risonanza con esso e questo per voi è veramente preziosissimo. Vediamo qualche altro motivo, uno sicuramente forse il più ovvio, avremmo potuto metterlo per primo, formarvi un nocciolo di lettori, di lettori vivi, di lettori organici, persone che vedano un vostro libro in una circostanza in cui voi non siate presenti, sono persone che non stabiliscono un legame con voi. Invece le persone che comprano un libro dalle vostre mani e a cui voi magari firmate anche un autografo e una breve dedica, sono persone che in qualche misura hanno già iniziato a stabilire un legame di relazione con voi. E se vi ricordate quello che vi ho detto in altri video qui su rotte narrative, tra l'altro se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale su YouTube accendendo la campanellina. Ecco, se avete prestato attenzione sapete che questa circostanza è il primo passaggio, quello dell'esordio letterario, deve essere, abituatevi a pensare così, come il primo passaggio, il primo step, il primo gradino di un percorso che va ben oltre. Se voi volete scrivere facendo sul serio, se volete essere dei professionisti della scrittura, l'esordio non è un punto d'arrivo. È un passaggio, un punto importante di passaggio verso una serie di nuovi traguardi che sono naturalmente i prossimi romanzi che scriverete. Quindi ricordatevi che partecipare a una fiera live in cui siete presenti direttamente, state farlo, vi aiuterà a costituirvi un gruppo, un bacino, all'inizio sarà molto piccolo, però se continuerete a farlo si ingrandirà, di lettori, lettori che potrebbero quindi leggere e apprezzare la vostra storia e che saranno predisposti a sviluppare con voi un tipo di relazione più stretta rispetto a quello che avrebbero fatto con il vostro libro se l'avessero visto, se l'avessero incontrato in un'altra circostanza. Quindi questo è un fattore da non sottovalutare. Vediamo qualche altro fattore che potrebbe essere importante. Una banale questione numerica, una banale questione numerica. Voi sapete che mediamente dipende molto dalle dimensioni della casa editrice e dalla tipologia del libro, però a livello di cifre, di cifre medie, in Italia il libro di un esordiente può di solito stimarsi vendere come risultato medio intorno alle, diciamo 250, ok? Che è un numero semplice. 250 copie è quello che potete aspettarvi di vendere se pubblicate con una piccola casa editrice, un editore indipendente quindi, con il vostro primo libro, quindi è un esordio, con quindi dietro anche molto, molta spinta da parte dei vostri amici, dei vostri familiari, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che succederà la prima volta che pubblicate, perché come sapete non è difficile pubblicare il primo libro, è difficile pubblicare il secondo, perché nel primo tutti i vostri amici vi spingeranno di più di quanto faranno se la vostra diventerà una cosa abituale. Preparatevi che sia così. Andare invece in fiera e abituarvi ad avere a che fare con un pubblico che non sono i vostri conoscenti, gli appartenenti alla vostra sfera sociale abituale, vi inizierà anche a mettere nell'ottica di relazionarvi con un pubblico che non vi guarda con un occhio di riguardo, cosa che invece vi capiterà, se così non è. Inoltre, se lo fate bene, se riuscite a comunicarvi bene e a incuriosire e ad attirare con le vostre parole, banalmente, numericamente, il vostro libro venderà di più. E vendendo in fiera il vostro libro vi darà la possibilità di staccare la media delle copie vendute di qualcosa, potrebbero essere qualche unità, potrebbero essere qualche decina, potrebbero essere alcune centinaia. Molti autori che ho visto cominciare le loro carriere, carriere che poi sono andate avanti bene e che li hanno portati a pubblicare con editori sempre più grossi, man mano che crescevano, sono partiti in questo modo. Hanno fatto proprio, hanno compiuto le prime tappe in fiera e hanno poco per volta espanso, ha cresciuto fiera dopo fiera, ovvio, non stiamo parlando di una soltanto. Dipende molto, questa è una cosa importante, dal tipo di libro che voi avete in mente, dal target del libro che voi dovete scrivere e dalla rotta narrativa individuale di voi come scrittori. Quindi questo discorso che stiamo facendo è un discorso generale. Ci sono poi dei generi specifici in cui la vendita in fiera può essere una occasione. Altri generi, che magari capita una volta solo o due o tre, ci sono invece altri generi che si prestano bene per la vendita in fiera e a quel punto invece potreste decidere, come hanno fatto in tanti che conosco, di farne proprio uno dei pilastri della vostra community, del pubblico che vi segue. E a quel punto non si parlerà più di decine di copie vendute, ma si parlerà di centinaia o di migliaia. La fiera chiaramente non è una cosa però che si può improvvisare, questo è molto importante dirlo, è qualcosa che richiede tutta una serie di accortezze e di accorgimenti. Se vi capita di frequentare una fiera del libro e di andare a vedere i banchi di case editrici indipendenti, quasi sempre saranno presenti gli autori di alcuni dei libri esposti, solitamente gli autori dei libri pubblicati più di recente. E vi accorgerete che la grande maggioranza di loro sono un po' dei pulcini spauriti che non sanno bene cosa fare, salvo alcuni casi di persone dotate di una eccezionale spigliatezza, a volte persino troppo, persino eccessiva, a volte aggressive e può capitare quello sta a voi non essere importuni e inopportuni. E però appunto non pensiate che ci si possa improvvisare una cosa del genere. Se volete farla bene sappiate che ci sono delle tecniche, ci sono delle cose da sapere, come in tutti i campi di comunicazione, di relazione con il pubblico. Se questo è un argomento che vi interessa, tra l'altro scrivetemelo qua nei commenti al box, nel box qua sotto dei commenti, e farò dei video poi dedicati su questo argomento, se vi interessa, se no, tanto gli argomenti ce ne possono trattare molto. Però vi dico questa cosa, relativamente alle fiere, non siate così superficiali dal pensare che le fiere siano più che altro un'occasione per scattarsi dei selfie e per fare delle foto. Non è così. Non è così, ve lo posso assicurare, perché i primi passi della mia stessa carriera io li ho compiuti dando molto spazio alla vendita in fiera, alla vendita presso un pubblico freddo. È stato estremamente utile perché mi ha permesso di fare tutte le cose che vi ho detto prima, quindi di calarmi all'interno del settore, all'interno del mercato. Mi ha anche dato la possibilità, e lo aggiungiamo alla lista che abbiamo iniziato a spigolare all'inizio del video, mi ha anche permesso di conoscere molti operatori del settore, oltre ad altri autori. Mi ha permesso quindi di capire quali erano le tendenze in atto nei generi più interessanti per me, più vicini a quello che volevo scrivere io stesso. Mi ha permesso di conoscere una marea di editori. Tutt'oggi io ho molte più proposte di editori che mi chiedono se voglio pubblicare con loro di quanto tempo io abbia per scrivere i miei romanzi. E questo viene anche come conseguenza del fatto che nei primi mesi, nei primi anni del mio percorso da scrittore, quando ero più giovane, io ho dedicato molta attenzione alla proposta, al proporre le mie storie al pubblico nelle fiere, totalizzando quindi cifre di vendita crescenti che mi hanno portato in breve tempo, uno, a costituirmi un pubblico affezionato, due, a essere sempre più sicuro di me nel parlare. Molti ancora oggi mi fanno i complimenti per la mia capacità di parlare in pubblico qui nei video e io posso dirvi che un fattore consistente in questa spigliatezza, in questa semplicità di relazionarsi, mi è venuto dall'esperienza maturata in fiera. E quindi ci sono tante cose, una vera e propria raggera di vantaggi che io ho avuto e che potrei enumerarvi dall'aver prestato particolare attenzione a queste circostanze. Quindi come dicevo anche l'analisi del mercato è un altro fattore importante, un buon motivo in più per fare bene attenzione a queste circostanze, per non lasciarsi scappare l'occasione di guardarsi un po' in giro, di conoscere le altre persone e di farsi conoscere. È anche una ottima occasione, una fiera del libro, per intrecciare relazioni, conoscere altri scrittori, altri editori e anche i lettori stessi. Tornando un attimo indietro a quello che vi stavo dicendo, alcune case editrici affrontano le fiere come appunto una vetrina. Perciò quello che fanno è organizzare all'evento di turno, che può essere dal salone del libro, quindi una circostanza di rilievo internazionale con un sacco di ospiti e un sacco di pubblico, fino a in realtà fiere molto più piccole. Possono essere anche piccole fiere di paese, perché no? O rassegne culturali, o eventi ricorrenze di scrittori, di personaggi famosi. Nel 2021 ad esempio ricorrerà il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri e sicuramente ne vedremo tante di ricorrenze del genere. Io mi sto preparando naturalmente da autore di una saga fantasy su Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, sono pronto al varco. Però, per dire, ogni circostanza è valida per mettersi alla prova. Non è necessario che si tratti per forza del Salone del Libro di Torino, anche delle fiere comics, se voi ad esempio siete autori di generi del fantastico, come può esserlo il fantasy, la fantascienza o l'horror, ebbene anche i comics sono ottime circostanze per provare, potete proporlo all'editore del vostro libro, di andare e provare a mettere lì il banco e a proporre i libri al pubblico. Qual è la discriminante importante per decidere se aderire o meno a una fiera? Chiaramente il pubblico. Quindi non è importante che in quella fiera non ci siano libri. L'importante è che in quella fiera ci siano persone che potenzialmente sono interessate a fruire quel tipo di libri. Perciò, ad esempio, nel caso dei romanzi fantasy di cui vi accennavo poco fa, di Eternal War, fantasy storici ambientati nella Firenze della Divina Commedia, i luoghi ideali in cui un libro del genere può essere venduto, sono chiaramente Lucca Comics & Games, Romics, Cartoonics, le varie fiere di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, eccetera, eccetera, che si trovano in giro per la penisola. Non perché lì ci siano molti libri di quei generi, ce ne sono, ovviamente ce ne sono, ma soprattutto perché lì si radunano le persone che hanno il gusto che più probabilmente coincide con quello che il libro gli può proporre. Questo è il concetto. E come sempre, se state prestando attenzione, tenere sempre d'occhio quello che il pubblico pensa, quello che il pubblico fa, quello che il mercato può incontrare rispetto alla vostra offerta, non farà che aumentare le vostre probabilità di beccare, di creare un match, di creare un incontro fra quello che è il vostro prodotto, abituatevi a ragionarlo come un prodotto, e la richiesta del mercato, perché il vostro lettore costituisce in una pluralità di suoi simili il vostro pubblico e quindi il vostro mercato. Ce ne sarebbero tantissime di cose da dire a questo proposito, ci sono anche tante circostanze in cui può tornare comodo sviluppare le capacità e le tecniche che vi permettono di descrivere in modo ottimale il vostro libro in poco tempo e senza che questo vi causi un dispendio eccessivo di energia mentale. Ad esempio, è capitato, non è una situazione ottimale, non la raccomando a nessuno, evitatela se potete. Le persone che si sono fatte ad esempio abbindolare dalle case editrici a pagamento e si sono ritrovate con scatole, scatole piene di copie del proprio romanzo e adesso non sanno più cosa farne perché i loro parenti e amici le hanno già acquistate tutto quanto. Bene, questa è una circostanza in cui sarebbe utilissimo sviluppare la capacità di parlare, di vendere a un banco, proprio perché così facendo potete rientrare nelle spese che solitamente vengono sostenute quando si viene persuasi da un editore a pagamento. Non fatelo, se potete evitatelo, vi prego. In realtà ci sono anche molte circostanze diverse, migliori. Ad esempio, parecchi fra coloro che dopo aver sperimentato la vendita in fiera si trovano bene nel farlo, si divertono. Io ad esempio sono uno di questi, adesso lo faccio molto meno di quando ero agli inizi, chiaramente, ma dopo un po' diventa proprio divertente. Se riuscite a fare tesoro di tutto quello che questa esperienza può portarvi, diventa proprio uno dei momenti più belli, perché c'è l'incontro, c'è il contatto. Quindi ci sono circostanze in cui quando un autore ci prende gusto, questo non parla, qua non stiamo più parlando di esordio, quindi però è una cosa che potete tenere presente per il futuro. Può benissimo fare degli accordi con la casa editrice in modo da poter prendere a un prezzo scontato delle partite di copie con uno sconto che io suggerisco non scendere mai sotto il 40%, l'ideale sarebbe dal 50% in su. Quindi concordate con l'editore che di quando in quando, quando avete tempo, quando avete dei weekend liberi, quando c'è una fiera a cui volete iscrivervi e portare le vostre copie, voi concordate in anticipo con il vostro editore che comprate 50 copie, quel che è, le portate in fiera, le vendete e, beh, non so quanti di voi lo sappiano, però questa cosa si può fare, non dovete mettere né scontrino fiscale né niente, fin tanto che rimanete sotto una soglia di 5.000 euro annui di guadagno, potete fare tranquillamente questa operazione senza dichiarare nulla a livello burocratico, è la cosa più snella che possa esserci, dovete semplicemente, perché l'iva è assolta dall'editore sulle questioni complesse che non vi riguardano. Comunque per dire che molti autori che conosco sono, dopo aver perfezionato il loro metodo e aver sviluppato una strategia di vendita al banco, ci prendono gusto e lo trasformano in una sorta di lavoretto, di lavoro part time, estremamente ben incastrato con la loro occupazione di scrittori, perché nel farlo vendono i libri e possono venderne quindi anche decine al giorno di copie, con uno sconto sul prezzo di copertina del 50%, capite da soli, che inizia a diventare persino interessante sotto un profilo economico. Anzi, in molti casi questi proventi della vendita diretta in fiera sono di gran lunga superiori ai proventi delle royalties, cioè generate dalla vendita di quelle copie in libreria. Chiaramente dipende moltissimo da tanti fattori, dipende da voi, dipende dal vostro essere spigliati, dal vostro essere sicuri, dal presentarvi bene, da come vi approcciate, anche dalla vostra età, da dove abitate, da dove vi trovate come posizioni, da quanto spendete per andare alle varie fiere, comunque qua stiamo già andando un po' troppo nello specifico. Questo per dirvi però che quando la gente mi chiede qual è il modo migliore per guadagnare con le proprie storie, cioè scrivendo romanzi, probabilmente il modo migliore, il modo più sano, cioè il modo più remunerativo fra i metodi sani è quello di imparare a vendere in fiera. Perché questo appunto vi sblocca tutta una serie di circostanze, di capacità, di situazioni e di soluzioni a problemi che magari non sapete nemmeno di avere. Penso di aver già messo parecchia carne al fuoco con questo video. Tenete presente che su questo argomento c'è veramente tantissimo da dire e che le fiere possono diventare tranquillamente uno dei vostri cardini di situazioni in cui aggregare pubblico. Perciò può essere tranquillamente, può diventare una delle principali frecce al vostro arco per diventare degli scrittori soddisfatti e con un pubblico affezionato che vi segue. In link qua sotto vi lascio il mio corso di scrittura, lo scrittore speciale, se ancora non gli avete dato un'occhiata fatelo. Vi lascio anche l'indirizzo per iscrivervi alla mailing list di Rotte Narrative in cui potete iscrivervi per ricevere in anteprima le mie pillole didattiche, queste qui che pubblico sul YouTube ogni tre volte alla settimana e anche del materiale extra che è completamente gratuito e riservato per gli iscritti della mailing list. Come sempre se avete delle domande, dei commenti, degli argomenti che volete che io tratti nei prossimi video, nelle prossime settimane, scriveteli qua sotto. Io, Livio Gambarini, vi saluto, vi auguro buona lettura e buona scrittura. Arrivederci da Rotte Narrative.